Buona domenica, ben trovati in una nuova edizione del TG6 La Settimana. Sciopero nazionale della scuola con gli insegnanti in piazza per contestare il mancato rinnovo del contratto e i tagli sul personale operati dal governo. Vediamo il servizio. Oggi la scuola si è fermata con lo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali ed in particolare da CGL, CISL, Will, SNALS, Gilda e Anief. I sindacati scioperano contro il decreto legge 36 del 2022 definito inaccettabile nel metodo e nel merito. Nel metodo perché si interviene per decreto legge e quindi in modo unilaterale e autoritario su una materia che riguarda il rapporto di lavoro e che pertanto dovrebbe essere regolata per via contrattuale. Nel merito perché invece di trovare le risorse per rinnovare il contratto si dà vita ad un sistema di valorizzazione professionale con premium a tantum sulla base di percorsi di formazione selettivi definiti dall'alto, per di più finanziati con i soliti tagli all'organico dei docenti, meno 9.600 posti di lavoro a regime. Le motivazioni dello sciopero illustrate ai nostri microfoni dal segretario regionale della CISL Scuola Abruzzo e Molise, Davide Desiati. Dopo due anni di Covid, dopo un lockdown duro in cui la scuola ha sofferto tanto, il personale della scuola ha risposto benissimo all'emergenza garantendo un servizio nel migliore dei modi, invece il rinnovo contrattuale sarà misero, non coprirà la cosiddetta infrazione programmata, sarà di appena 40-50 euro medi su tutto il personale della scuola, il banché significherà anche che ci saranno i neoimmessi che prenderanno pochissimi euro di aumento stipendiale dopo tre anni, ma soprattutto il decreto legge, uno strumento per rispondere a delle urgenze, affronta dei temi che invece sono decennali, ventennali nella scuola, ovvero la formazione degli insegnanti, la formazione iniziale degli insegnanti e reclutamento. Questo decreto legge prefigura dei tempi e una formazione che non indurrà i giovani laureati a rivolgersi al mondo della scuola e la scuola avrà ancora più problemi di precariato e non attrarrà le risorse migliori. I giovani che i neolaureati non possono avere davanti un percorso di 5-6 anni prima di poter stabilizzare il proprio rapporto di lavoro. L'imprenditore Marco Finori ricorre al TAR contro l'affidamento degli impianti di Prati di Tivo ai fratelli Persia. Se i giudici daranno la sospensiva, la stagione estiva salterà nuovamente. Che fine farà il comprensorio scistico di Prati di Tivo e Prato Selva dopo il ricorso al TAR dell'imprenditore Marco Finori contro l'affidamento da parte della Gran Sasso Teramano alla ditta dei fratelli Persia, si saprà il prossimo 8 giugno, quando i giudici si esprimeranno sulla sospensiva. Finori, che dopo aver vinto il bando non si era presentato davanti al notaio per la firma definitiva, nel suo ricorso contesta l'inesistenza di un atto amministrativo da parte della provincia di Teramo che trasferisca la concessione della cabinovia di sua proprietà ai nuovi gestori degli impianti. Se il TAR concederà la sospensiva, la stagione estiva salterà nuovamente. Il Partito Democratico di Teramo, minoranza in consiglio provinciale, scende in campo e chiede subito un tavolo di confronto. La nostra soluzione è sempre quella di un tavolo richiesto più volte in provincia per poter valorizzare effettivamente tutti gli investimenti che nel corso degli anni le amministrazioni regionali di qualsiasi colore hanno avuto per quel comprensorio, soprattutto per dare delle risposte concrete, per inserirli all'interno di una programmazione che non si è fatta più a spot. C'è un progetto per la viabilità, ci sono microprogetti per i comuni. Oggi abbiamo degli strumenti come i finanziamenti per le aree interne, il PNRR, che potrebbe in qualche maniera dare una risposta organica a tutti quegli imprenditori, a tutte quelle comunità che non vedono soddisfatte quelle che sono le loro necessità ed esigenze. Ma quali errori sono stati commessi in questo pasticcio senza fine che ha messo K.O., la montagna Teramana? Quello sbagliato è stato sbagliato il bando. Lui abbiamo detto già all'inizio che quel bando aveva delle grandi carenze. Una di quelle carenze, secondo me, che è evidenziato e evidenziato oggi, è quella del passaggio alla concessione della Seggio Campinovia a chi l'acquirente degli impianti. Questo lo dico perché una concessione può essere vulturata soltanto con l'autorizzazione del concedente, quindi di provincia di Teramo. E la provincia si è mai espressa, quindi la mancanza della provincia è che non ha mai detto come avrebbe passato la concessione a chi compra gli impianti. Io sono convinto che chi compra gli impianti non può non avere quegli impianti con la concessione Seggio Campinovia, sia per interferenza della stessa impiantistica, ma sia per la parte estiva di valorizzazione. E questo è un elemento critico in quel bando, elemento critico di oggi. Erano tutti dalla provincia di Foggia, ma avevano una base a Francavilla, al mare, dove pianificavano i furti a Bancomat nella provincia di Chieti con la tecnica della marmotta. Sette persone sono finite in carcere, uno ha l'obbligo di dimora. Vediamo. Hanno preso d'assalto i Bancomat di istituti di credito e uffici postali della provincia di Chieti nello scorso autunno, portando via, con riferimento a tre colpi in particolare, circa 76 mila euro. Ma il lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo di Chieti, con l'ausilio di quelli delle compagnie di Lanciano, Ortone e Chieti e il coordinamento della procura di Chieti, ha portato all'identificazione della cosiddetta Banda della Marmotta, così chiamata per l'utilizzo dello strumento con cui facevano pesantemente deflagrare gli sportelli ATM. Otto persone sono state colpite da misure cautelari su disposizione del GIP di Chieti, sette di custodia cautelare in carcere, una di obbligo di dimora. E devono rispondere di furto aggravato, fabbricazione e uso di ordini esplosivi. Tutte residenti in provincia di Foggia, ma che avevano una base a Francavilla al mare, sede ideale per preparare poi i colpi portati a termine nella provincia di Chieti. I tre in questione sono al bancomat della filiale BPR di Miglianico, a quello della BCC Sangro Teatina di Canosa Sannita, a quello dell'ufficio postale di Villa San Vincenzo di Guardia Grele. Ricostruiti i passaggi del modus operandi della banda, sopralluoghi sugli obiettivi da colpire, furti delle vetture con cui compierli, con predilezione per l'Alfa Giulietta, da qui il nome dato a quest'operazione, utilizzo della marmotta che veniva inserita dopo apposita forzatura nella bocca che eroga il denaro, prelievo delle banconote dopo l'esplosione, abbandono nelle strade o nelle campagne limitrofe della vettura utilizzata per il furto e rientro nei centri urbani. Una curiosità, come mai la Giulietta? Probabilmente avevano un sistema per rubare questo tipo di macchine, poi purtroppo sappiamo anche per storia giudiziaria che si cerca sempre di commettere reati con macchine alquanto comuni. A colpire anche la spregiudicatezza con cui agivano i malviventi e il grande utilizzo di polvere esplodente di cui veniva riempita la marmotta, tanto che i danni riportati non solo agli sportelli letteralmente sventrati ma anche all'intera struttura di banche opposte erano ingenti e impedivano la ripresa dell'attività nel giro di poco tempo. Con inevitabili possibili pericoli, come abbiamo visto per esempio nell'episodio di Guardia Grele dove la deflagrazione è stata veramente forte che oltre a creare un problema alla struttura abbiamo rinvenuto parti dell'esplosione anche a oltre 30 metri dal luogo quindi con un pericolo per eventuali passanti o per inquilini dell'appartamento posto ai piani superiore dell'ATM. È stata una indagine di qualità quella che ha permesso di risalire all'identificazione della banda ha detto il comandante greco passata per l'acquisizione di filmati di videosorveglianza, esame GPS, comparazione di DNA, utilizzo di sistemi informatici. Il consigliere regionale Marco Cipoleti denuncia ritardi insopportabili all'ASL di Teramo per i cittadini che richiedono una visita di controllo per nei sospetti o altre lesioni dell'acute. Secondo Cipoleti per una dermoscopia bisognerebbe attendere fino a gennaio 2024. L'ASL smentisce. Accuse pesanti da parte del consigliere regionale Marco Cipoleti e del medico di medicina generale Siriano Cordoni sulle liste d'attesa all'ASL di Teramo e in particolare per la mappatura dei nei. Si tratta quest'ultima dell'epiluminescenza, un esame che permette di valutare le lesioni dell'acute. Il consigliere Cipoletti ha sostenuto che una prenotazione di tale esame diagnostico da effettuarsi entro dieci giorni come da prescrizione avrebbe trovato una disponibilità solo nel gennaio 2024. L'ASL di Teramo precisa invece che dopo una consultazione della piattaforma di prenotazione la prima disponibilità di una dermatoscopia è per il 3 giugno prossimo all'UCCP di Villa Rosa, il 28 settembre 2022 all'ospizio marino di Giulianova, il 3 ottobre nel distretto di Roseto. Il cittadino spiega il direttore sanitario Maurizio Brucchi e con le giuste indicazioni avrebbe potuto soddisfare la sua esigenza di valutazione di un neo nei tempi giusti. Infatti tale prestazione, secondo l'ASL, non godendo di criteri di priorità, può essere erogata entro 120 giorni come prevede la norma. Il problema delle liste di attesa esiste, commenta e riconosce il direttore generale Maurizio Di Giosia. Non a caso a marzo l'ASL di Teramo ha varato un apposito piano di recupero che sta dando buoni frutti. L'azienda sta valutando anche misure straordinarie, fra le quali la limitazione dell'attività in libera professione negli ambiti in cui non si rispettano i parametri. Inoltre proporrà, nella stesura del prossimo accordo integrativo con i medici di medicina generale, dei livelli sanzionatori per le reiterate prescrizioni inappropriate, così come attuato in altre regioni. C'è di nuovo preoccupazione tra i sindacati per l'avvertenza Betafence con il pericolo di un'delocalizzazione della produzione e conseguente ricaduta occupazionale. Si è tenuto un tavolo in regione, un altro ce ne sarà a metà mese. Ascoltiamo. Tavolo in regione ieri sulla avvertenza Betafence, l'azienda di Tortoreto, leader nell'allestimento di recinzioni, ma le cui acque sono tornate ad agitarsi nelle scorse settimane dopo che è stato annunciato il taglio di 60 posti di lavoro e dopo che una parte della produzione, che è la Betafence garantiva nel comune della Val Vibrata, è stata trasferita all'estero. L'incontro è stato coordinato dall'assessore regionale al lavoro, Pietro Quaresimale, che ha interloquito con i rappresentanti dei lavoratori per nulla soddisfatti di come sta avvolgendo l'attuazione del piano industriale sullo stabilimento di Tortoreto. Secondo i sindacati, questa situazione rischia di depotenziare il sito industriale nella prospettiva di una delocalizzazione della produzione. Un nuovo incontro è stato fissato per la metà del mese. Abbiamo fatto un tavolo in regione con i rappresentanti dell'azienda, con le parti sociali, l'RSU, abbiamo fatto un attimo il punto della situazione, abbiamo raggiornato il tavolo a metà giugno dove l'azienda praticamente fornirà un nuovo piano industriale o quantomeno aggiornato rispetto al precedente e per capire gli investimenti che vogliono fare sul sito di Tortoreto. La regione farà la sua parte, tant'è che nel prossimo tavolo coinvolgerò anche il collega Damario e quindi il Dipartimento di Attività Produttive perché qualora ci siano degli investimenti vogliamo mettere in campo non solo misure per quanto riguarda la politica attiva del lavoro ma anche per quanto riguarda le attività produttive. Come dicevo è importante tutelare i lavoratori e da questo punto di vista come regione faremo quello che è possibile e quello che è di nostra competenza. Sono diverse pertenze aperte, da questo punto di vista cercheremo di mettere una serie di misure per mantenere i livelli occupazionali ma anche per combattere la precarietà. Da questo punto di vista stiamo ponendo in essere delle azioni che incentivi l'assunzione a tempo indeterminato di persone che hanno un lavoro precario per avere una certezza per il futuro. Come da decreto legge anche la città di Pescara dovrà dotarsi del piano antirumore. L'amministrazione è al lavoro per approvarlo in breve tempo anche in vista della stagione estiva. Vediamo. Noi dobbiamo trovare un equilibrio per il bene della città. Per quanto riguarda Pescara, Pescara è una città viva ed effervescente ma nello stesso tempo è una città dove in alcune zone il riposo deve essere garantito. Il riposo deve essere garantito dovunque ma in alcune zone purtroppo ci sono situazioni dove bisogna intervenire. Zone della movita di Pescara troppo rumorose. Così l'amministrazione comunale prova a correre ai ripari realizzando un piano contro l'inquinamento acustico. Questo anche a seguito delle analisi dell'agosto dello scorso anno trasmesse da Arta al Comune. Il piano antirumore è stato assegnato a un professionista esperto del settore che ha redatto un atto sulla base della situazione che c'è. Ovviamente questo atto dovrà avere il vaglio della politica e quindi ci sarà, come già ci sono stati incontri, ce ne sarà qualche altro d'incontro anche con le parti sociali perché un provvedimento del genere deve essere un provvedimento che in ogni caso la città deve recepire in maniera puntuale anche per capire quali sono le motivazioni per cui si fanno determinati interventi. Dopo l'approvazione in giunta il provvedimento dovrà passare per i banchi del Consiglio Comunale. In quell'occasione il primo cittadino chiede l'appoggio di tutte le forze politiche. Nelle ultime ore si è parlato di uno scontro in seno alla maggioranza dopo che l'assessore forzista Isabella del Trecco aveva presentato questo documento. A spegnere però ogni polemica ci ha pensato l'assessore di Fratelli d'Italia Alfredo Cremonese. Chiaramente si stanno facendo degli approfondimenti, posso garantire che questi approfondimenti vengano fatti in comune accordo con l'assessore di competenza Isabella del Trecco che sta facendo un ottimo lavoro e quindi stiamo portando avanti questo provvedimento che chiaramente è la prima volta che si adotterà a Pescara. È un obbligo di legge ma richiede sicuramente uno studio approfondito che appunto stiamo facendo e stiamo portando avanti. Intanto gli operatori del settore per mantenere i locali aperti fino a tardanotte hanno fatto ricorso. Lo stesso hanno fatto però i residenti che chiedono di limitare gli orari. Ci sarà un confronto che le istituzioni esamineranno per far sì che si possa avere in futuro una città viva e che garantisca i diritti ai cittadini. Prosegue lo stato di agitazione delle marinerie per il caro gasolio. Francesco Scordella, presidente dell'Associazione Armatori di Pescara, lancia l'ennesimo grido d'alarme. Vediamo. Passano i giorni ma per le marinerie italiane la situazione diventa sempre più drammatica a causa dello stop alle attività per il caro gasolio. A Pescara pescherecci in porto con lo scoramento dei pescatori che cresce di giorno in giorno. Loro devono capire che le aziende non è che possono vivere la giornata in questo modo qua perché sulle imbarcazioni ci sono anche i dipendenti, le famiglie, le aziende che hanno i mutui e hanno spese. Non si può vivere la giornata tenendo ferme delle attività. Poi c'è tutta la filiera, la ristorazione, c'è l'indotto della meccanica, l'elettricista, il frigorista. C'è un mondo dietro al settore pesca e loro purtroppo non ti ascoltano e decidono sempre loro con le associazioni. Io non è che sto contro le associazioni ma un membro della pesca ci deve stare chi sta sul pezzo tutti i giorni perché un conto sta su una scrivania e un conto stare sul pezzo tutti i giorni che tu lo tocchi con mano. Quindi oggi secondo me la soluzione migliore era cercare di avere un fermo, che lo chiamassero come gli pare, biologico, bellico. Nel frattempo che loro trovano le soluzioni per abbassare questo casoglio perché se no stiamo fermi in operaosi così come stiamo adesso, è abbraccio concerto, il giorno 16 abbiamo i pagamenti, le scadenze arrivano uguali e questa è la situazione di questa categoria a livello nazionale. Per il presidente dell'Associazione Armatori Francesco Scordella sarebbe stato giusto anticipare il fermo biologico a giugno anziché lasciarlo a luglio in una situazione sempre più complicata per il settore. Stiamo cercando di fare delle proposte a ridurre il massimo delle giornate, però se lavori poco e poco di compenso ce ne avrai talmente basso che non so qual è la soluzione migliore. Il problema più grande è che noi purtroppo non abbiamo avuto questo incontro al Ministero della Pesca per avere un colloquio con chi proprio deve dirigere questo settore, quindi con il sottosegretario che volevamo fare della proposta in attesa delle misure che verranno adottate se era il caso di fare un fermo. Qua come si nomina la parola fermo? Sembra che scoppia terza guerra mondiale, ma secondo me era l'unica alternativa in questo caso di stare fermi e quindi non stavamo fermi a livello nazionale in operosi senza avere perdita di tempo. Perché adesso siamo in queste condizioni, fra un mese e mezzo c'è il fermo biologico, voglio capire quale è la soluzione che hanno in mente questi qua. L'attività recente della Regione in materia di finanziamenti, aiuti alle imprese e indenizi a lavoratori è stata al centro della conferenza stampa indetta dai vertici di Forza Italia. Oltre 172 milioni di euro stanziati. Vediamo. Sono 172 milioni di euro stanziati dall'assessorato regionale alle attività produttive, turismo e beni culturali presieduto da Daniele Damario per far fronte all'emergenza partita nel 2020. Questa mattina, assieme ai vertici del partito, l'assessore di Forza Italia ha voluto illustrare più nel dettaglio le misure messe in campo per aiutare imprese e cittadini. Oggi comunichiamo ciò che è stato messo in campo dall'assessorato sviluppo economico, turismo e cultura, diciamo negli ultimi 18 mesi. Diciamo che abbiamo messo sul campo circa 172 milioni di euro a disposizione delle imprese, dei cittadini abruzzesi, compresi sono ristori, sono contributi, parte in esecuzione di leggi regionali, parte in esecuzione di fondi statali che noi abbiamo messo a bando, abbiamo messo a disposizione delle imprese abruzzesi. Per quanto riguarda il quadro economico di regione Abruzzo dobbiamo dire che la regione Abruzzo oggi tiene botta, soprattutto con le grandi imprese. Abbiamo notizie importanti anche per quanto riguarda l'automotive, soprattutto per quanto riguarda il gruppo Stellantis e quindi parliamo di Sevel. Quindi diciamo che nel complesso l'economia abruzzese tiene, soprattutto per quanto riguarda la grande industria. Abbiamo qualche piccolo problema per quanto riguarda le micro imprese e sulle micro imprese sarà importante uno sforzo con la nuova programmazione 21-27 che mette sul piatto circa 380 milioni di euro per le imprese. Un applauso al lavoro di Damario e dei consiglieri di Forza Italia è arrivato dal senatore e coordinatore del partito, Nazario Pagano. Daniele Damario secondo me ha fatto un ottimo lavoro. Oggi finalmente ne dà comunicazione ai cittadini abruzzesi perché per la politica è fondamentale far sapere soprattutto ai cittadini quel che si sta facendo. Non sempre questo viene percepito, soprattutto quando si tratta di enti di livello sovracomunale perché poi i cittadini magari si rendono conto di quel che accade nella propria città ma nella regione un po' meno. Quindi oggi si fa il risultato di quanto è stato fatto, di quanto la pandemia ha certamente contribuito a creare dei problemi ma di quanto anche l'assessorato regionale al turismo e all'attività produttiva ha fatto per venire fuori da una situazione oggettivamente complicata. Certo, non ci voleva anche questo problema della guerra che ha fatto levitare soprattutto i costi dell'energia, di gas e petrolio. Questo naturalmente comporta una serie di altri problemi di livello nazionale e internazionale che però hanno una ricaduta anche in regione. Ma io credo che quello che è stato fatto è molto positivo. Tura elettorale del segretario del Partito Democratico Enrico Letta che ieri è stato in Abruzzo per sostenere i candidati sindaci di centro-sinistra. Vediamo. Tutto lo stato maggiore regionale del Partito Democratico ha colto questa mattina nel nuovo comitato di via Tiburtina a Pescara il segretario nazionale Enrico Letta che ha salutato i dirigenti del PD soffermandosi sulle prossime amministrative. Il segretario Letta ha speso parole importanti soprattutto per la candidata all'Aquila, Stefania Pezzopane. L'Abruzzo per noi è terra importante, fondamentale anche e soprattutto perché si vota l'Aquila l'Aquila con una candidatura per noi importante di un grande personaggio nazionale nostro come Stefania Pezzopane la quale tutti vogliamo molto bene tutti crediamo che possa fare una bellissima campagna elettorale quindi sono a suo sostegno ma sono anche molto contento di poter aprire una nuova sede regionale per noi è un segnale molto importante il Partito Democratico apre le nuove sedi il Partito Democratico ha nuovi iscritti il Partito Democratico si rilancia fa tante agora, tante agora democratiche Letta non ha usato poi mezzi termini nelle criticare l'azione della Giunta Marsilio auspicando nel 2024 il ritorno al governo in Abruzzo del centro-sinistra Noi guardiamo alle elezioni regionali del 2024 con fiducia e speranza perché vogliamo lavorare in vista di quell'appuntamento vogliamo arrivarci questa volta preparati ma sono convinto soprattutto che l'Abruzzo debba voltare pagina perché questa Giunta regionale è una Giunta regionale che ha tolto l'Abruzzo da qualunque dinamica di centralità, di sviluppo con un'occasione straordinaria qual è quella dei fondi europei, del PNRR l'Abruzzo oggi è marginalizzato e noi crediamo invece che per il bene del nostro paese e per il bene dell'Abruzzo sia necessario riportarlo al centro Adesso cambiamo argomento parliamo di sport per gli ingressi in società c'è ancora da attendere alcuni giorni la risposta definitiva entro metà mese fa sapere il presidente del Pescara Daniele Sebastiani che abbiamo sollecitato anche sul toto allenatori vediamo Ho detto già che i tempi non sono ancora maturi ci vorranno ancora dei giorni e quando ci saranno queste conclusioni saprete chi sarà il direttore chi sarà l'allenatore chi saranno i giocatori E allora proprio per fare chiarezza si può parlare di un'imminente cessione di una parte delle quote perché si è detto di questo 30-35% che sarà ceduto e successivamente l'annuncio del direttore degli carri La mia idea, lo sapete tutti era quella di trovare un interlocutore che comprasse tutta la società o perlomeno le mie quote di maggioranza se così non sarà sarà magari nell'altra forma quello che dicevi tu va bene uguale per un periodo ma sicuramente saranno persone che condivideranno un progetto che decideranno insieme a me per questo periodo le cose da fare e quindi è giusto ed è anche corretto aspettarli per capire dentro una data che io chiaramente ho dato che non può andare sicuramente oltre la metà di questo mese chi sarà il nostro partner e quindi a quel punto puoi decidere come ho detto a qualche tuo collega De Licarri è forse uno dei pochi che in questi anni nonostante fosse fuori dal calcio italiano mi ha dato una mano per cercare di trovare delle soluzioni su possibilità di vendita della società sicuramente non sarà un problema De Licarri per quanto riguarda l'allenatore è tutto in alto mare Guidi si è sistemato a Roma manca l'ufficialità ma si è sistemato sto contento per lui esce un candidato che era autorevole sì sì ma secondo me Guidi è un buon allenatore alla pari di quelli dei nomi che sento al momento noi non abbiamo parlato con queste persone per cui ci parleremo quando qualcun altro insieme a me deciderà l'elenco delle persone da interpellare Zeman è in ascesa come quotazione perché lei lunedì ha detto se dipendesse da me visto che contano anche i rapporti personali io direi di no la presenza magari eventuale di De Licarri potrebbe far salire le chance di Zeman ma ve lo ripeto se dipende da me no ok invece le faccio flash altri nomi Caneo Cudini è uscito fuori anche il nome di Colombo che però pare non essere stato interpellato sapete più voi che io sono gli allenatori che sono liberi quindi è giusto che escono i loro nomi però al momento non c'è nulla su questo una tempistica sulla definizione dello staff tecnico la possiamo dare se non ancora per la definizione societaria dopo metà giugno e con questa notizia termina l'edizione del TG6 la settimana grazie di averci seguito buona domenica